Come scegliere infissi in pvc? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Scegliere degli infissi in pvc non è facile perché ci sono tantissimi elementi che concorrono nella scelta. A tal proposito, oltre ad avere scritto innumerevoli articoli, un libro, una guida e girato tantissimi video, il mio consiglio è di partire dalla scelta dell'azienda che dovrà montartelo, prima ancora della marca. Perché magari puoi trovare una marca di infissi in pvc che ti piace, ma lì in zona non c'è un'azienda seria che la rappresenta. Quindi è quasi più importante la posa di una finestra che la finestra stessa. Poi subentra la scelta del vetro, che è fondamentale. Ogni rivenditore di finestra, anche della stessa marca, ti potrà consigliare di abbinare un tipo di vetro piuttosto che un altro. Anche un tipo di ferramenta, perché alcuni tipi di infisso in pvc si possono acquistare con un tipo di ferramenta piuttosto che un altro. Quindi nella scelta di rifisso in pvc, oltre anche la dimensione che è importantissima, il colore che è importantissimo perché tende a surriscaldarsi e imbarcarsi, è fondamentale la figura del consulente, che è difficile da trovare, soprattutto se è quello che te le sta vendendo, perché c'è un vero e proprio conflitto di interessi. Proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza dove posso andare a aiutare tutte le persone, tutti gli italiani, che normalmente non riuscirei neanche a seguire con la mia azienda, perché anche se siamo abbastanza grandi non possiamo servire e non vogliamo servire tutta l'Italia, altrimenti diventeremo un'industria e perderemo la nostra qualità. Ecco abbiamo ideato un servizio di consulenza con Sistema Bisacchi, dove ti posso dare un consiglio sopra le parti senza interesse su quale tipo di infisso in pvc scegliere e consigliarti se l'azienda che hai selezionato può essere affidabile oppure no e magari darti un consiglio su alcune domande, su temi da approfondire con quell'azienda. Se vuoi saperne di più vai su www.blogvisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video! Ciao!